Questo progetto ha messo in evidenza il fatto che la regola storica di regolazione del Lago Maggiore, che è in essere dagli anni 40 del 1900, ha la necessità oggi, in funzione dei cambiamenti climatici, delle maggiori sensibilità ambientali rispetto al passato, di introdurre un elemento di flessibilità. L'anno scorso ci ha insegnato come una crisi idrica che rischiava di ripresentarsi quest'anno avrebbe portato a conflitto esigenze come quelle dell'agricoltura e quelle della tutela degli ambienti. Questa cosa non è più possibile gestirla con una regola fissa e bloccata per sei mesi. L'idea che è emersa è che ci sono dei momenti in cui la risorsa può avere un occhio di maggiore attenzione per le aree protette, per i canneti, per il fiume e dei momenti in cui è necessario, indispensabile, accumulare per quanto più possibile risorsa idrica per le esigenze agricole, che ricordano non solo di produzione, ma sono anche di distribuzione dell'acqua in territori vastissimi e quindi hanno anche un significato di natura ambientale. Presidente, il Parco ha manifestato con questa riunione, con questo incontro, l'interesse per quanto riguarda le acque. Questo è un progetto che è iniziato con la scorsa amministrazione, oggi sono presentati i risultati finali, ma si conclude il progetto ma non si conclude il percorso e come diceva giustamente è un interesse a 360 gradi, il nostro nome lo dice. Ticino e Lago Maggiore sono i soggetti coinvolti e quindi, come dicevo, questo è un percorso che continuerà perché poi se dovessi scegliere una parola per il progetto sarebbe equilibrio e quindi quello che si dovrà riuscire a trovare è proprio un equilibrio fra questi dati che oggi ci sono stati presentati, proprio perché sono le nostre due anime, Ticino e Lago Maggiore, con degli interessi che possono apparire contrapposti, ma tornando con la famosa parola, equilibrio è quello che si dovrà riuscire a trovare. Anche perché, come ente, abbiamo la nostra missione che è tutelare la biodiversità e tutto ciò che ne consegue, ma come amministrazione siamo molto consapevoli anche di quelli che sono gli interessi e l'importanza socio-economica dei nostri territori.